Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 per traffico intenso occode tra Firenze-Scandici e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze-Scandici verso Roma. Per quanto riguarda le statali, sulla 12 della Betone del Brennero, rallentamenti in entrambe le direzioni per una frana circa 5 km prima di Popiglio. A Firenze si segnala traffico intenso in zona stazione. Infine una notizia per i pendolari che sfruttano il trasporto pubblico, si informa che su decisione della Giunta regionale gli attuali tagliandi Z e TPL restano validi fino al 31 marzo. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!